Non all'Africa perché so di avere in Italia dei parenti, ma non so di avere addirittura una famiglia. Lo vengo a scoprire purtroppo in circostanze non proprio allegre, che ho una famiglia da tirare avanti. Uno che non si è mai preso delle responsabilità deve tornare, prendere in pugno la situazione, cercare di far sì che la famiglia possa combattere anche contro tutti i problemi che ha, perché è una famiglia comunque legata a una clinica veterinaria che era condotta da mio fratello che poi muore e io prendo in mani le redini non solo della famiglia ma anche della clinica e quindi con tutti i problemi annessi e connessi perché mio fratello nella gestione di questa clinica non è stato proprio troppo bene nei confronti degli animali, spendeva un po' troppo e quindi la clinica è un po' in ginocchio e allora mi tocca mettermi sulle spalle anche quello, ma lo faccio molto volentieri. All'inizio lo faccio per il ricordo che ho di mio fratello, poi invece lo faccio anche per amore di questa nuova famiglia che mi ritrovo lì all'improvviso. L'ascolto io l'ho sempre combattuto, insomma io spero che il tempo mi darà ragione, non è sempre detto che i programmi che fanno tanto ascolto siano degli ottimi programmi, così come non è detto che i programmi che fanno poco ascolto non siano programmi buoni. Ritengo che l'ascolto vada un pochino preso con la giusta importanza, credo che sia il gradimento delle persone, poi se fai un buon lavoro la gente per strada te lo dice al di là degli ascolti. Lo dimostra Sky per esempio, tutti quanti conoscono Masterchef, tutti quanti conoscono X Factor anche se non fanno gli ascolti delle reti principali, questo significa che non è sempre detto che l'ascolto dà significato a un programma. Il programma poi piace o non piace? Io ho fatto dei programmi di grande ascolto che non sempre sono piaciuti, ho fatto dei programmi di meno ascolto che a me personalmente hanno soddisfatto di più.